Avevamo organizzato un viaggio di istruzione, quest'anno tra l'altro molto ben sviluppato su tutta una serie di tematiche e di luoghi. Andavamo a Berlino anche per visitare la città in occasione del trentennale della caduta del muro di Berlino, che è occorso a novembre, quindi diciamo in pieno anno scolastico, ne avevamo parlato ed era il nostro proposito. Purtroppo poi gli eventi sono precipitati, in città non si è potuto più andare. Sottolineo un fatto che la rinuncia da parte dei ragazzi del viaggio di istruzione è fortemente penalizzante nei loro confronti, perché come sappiamo tutti noi che il viaggio di istruzione l'abbiamo potuto fare, è un rituale, è un momento di passaggio, è un momento di crescita, di condivisione, insomma l'ultimo anno si ricorda forse soprattutto per il viaggio condiviso con la propria classe. Quindi io ho notato la tristezza negli occhi dei miei ragazzi per questa loro rinuncia, insomma è come se gli mancasse qualcosa. La pagina Instagram è che gli itinerari vengono scelti, potremmo dire, in sharing, cioè anche col contributo dei ragazzi che piano piano scoprono, anche questo è fare, no, didattica. Assolutamente, l'itinerario è deciso dai ragazzi, io gli propongo delle località, loro le strutturano e le definiscono. Abbiamo chi disegna l'itinerario, io insegno in un liceo artistico, coreutico e musicale, quindi ho anche la parte grafica di supporto, quindi è un'attività che io ho già proposto al consiglio di classe di valutare come un'attività effettiva svolta durante il lavoro didattico a distanza. Quindi abbiamo proprio una parte pratica, loro sviluppano l'itinerario, disegnano l'itinerario e poi realizzano anche dei video in cui prima gli faccio fare una ricerca sui luoghi per poter descrivere quel particolare monumento, quella particolare località in 50 secondi. Poi gli faccio mondare il video, fanno tutto loro e poi glielo faccio caricare, lo carichiamo su questa pagina che speriamo con vari contributi possa diventare una sorta di guida della Basilicata, una guida alternativa, insolita, insomma, fatta una produzione studentesca, ma con perizia di particolari e soprattutto con informazioni attendibili. Tra l'altro stiamo ricevendo il sostegno anche di non solo appunto di chi opera nella scuola, ma anche di personalità esterne alla scuola, di chi lavora. Il viaggio d'istruzione rappresenta proprio appunto il viaggio che si fa tutti insieme, quindi anche è la conclusione di un percorso facendone un altro. Lei ritiene che i ragazzi camminando insieme al proprio docente, ma soprattutto insieme ai loro amici, che poi si dividono le strade dopo la maturità, crede che forse questa pratica di stare nella propria regione possa diventare anche extra emergenziale, non soltanto nell'emergenza, ma magari anche tra un paio d'anni si potrà replicare l'iniziativa? Io mi auguro che la riscoperta dei territori, che è anche appunto un supporto a tutte le attività che su questi territori vivono, che sono tante, che alimentano esperienze, che alimentano laboratori culturali, vengano riscoperte sempre di più, soprattutto dal turismo scolastico. Non sapremo cosa ci riserva il futuro, non sapremo come dovremo organizzare le attività didattiche al di fuori della scuola, però mi auguro sinceramente che questa riscoperta del territorio venga recuperata, e venga recuperata appunto partendo da ciò che abbiamo più vicino, che spesso è ciò che dimentichiamo con più facilità. Grazie a tutti.